Come sempre l'arma anche in questa circostanza di particolare emergenza ha manifestato la sua vicinanza alla popolazione attraverso una serie di gesti concreti, in alcune circostanze i miei militari hanno provveduto a portare la spesa ad alcune persone anziane o in particolare a Cortona si sono prestati a restituire ad alcuni alunni dei tablet, dei libri che avevano lasciato presso la scuola. Come vede interventi a favore delle fasce deboli. Dalla spesa portata direttamente a casa ad un'anziana alla consegna di pc, tablet, ma anche dizionari e libri agli studenti per la didattica a distanza. Così i militari dell'arma in questo delicato momento di emergenza stanno cercando di garantire la massima vicinanza alla cittadinanza, soprattutto alle fasce più deboli. Sicuramente è una restituzione di carattere, di grande affetto e gratitudine, è quello che ci ripaga degli sforzi e del lavoro. L'emergenza ormai da settimane costringe a casa sempre più persone, soprattutto alle più anziane, maggiormente esposte ai rischi del virus. Ed è proprio a loro che è rivolto un nuovo servizio nato da un accordo tra arma e poste italiane per gli anziani soli. Per loro infatti adesso c'è la possibilità di farsi portare a casa la pensione in contanti direttamente dai carabinieri. Consente agli anziani oltre 75 anni che solitamente percepiscono la pensione attraverso i contanti di attivare una procedura o chiamando la stazione più prossima al proprio domicilio o il numero verde attivato dalle poste italiane e quindi avviare la procedura perché l'arma si porti presso la sua abitazione, acquisisca la delega e poi in convenze ultimate gli porti la pensione. Voglio precisare che questa procedura si attiva su iniziativa dell'anziano e il personale che si legherà presso le abitazioni sarà sempre personale in uniforme che si qualificherà con apposito tesserino. Ovviamente il principale impegno dei militari resta quello rivolto all'attività di controllo e prevenzione quotidiani servizi per far rispettare le misure anti-coronavirus. Sono giornate sicuramente di impegno particolare e diverso diciamo da quelli che sono gli usuali compiti. L'arma insieme alle altre forze dell'ordine sotto il coordinamento della prefettura è particolarmente impegnata in questo periodo nei controlli volti a far rispettare le misure per il contenimento del covid. D'altro lato i militari come tutti noi sono normali cittadini che vivono anche loro le ansie e le preoccupazioni personali e familiari che questa emergenza sta portando.